Nuove misure restrittive per limitare i viaggi non essenziali all'interno dell'UE, produzione del colore rosso scuro per le zone dove le varianti di covid si diffondono più rapidamente, sono le scelte fatte in tarda serata dai capi di Stato e di Governo al termine del loro nonno video summit dedicato alla pandemia, una riunione che era stata convocata dal Presidente del Consiglio Europeo, Michelle, per contrastare la diffusione delle nuove varianti. Ci preoccupano molto, la situazione seria, il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie ha indicato che con le varianti è atteso un aumento delle infezioni. È arrivato il via libera al mutuo riconoscimento dei test rapidi tra partner europei, premessa ad eventuali checkpoint medici generalizzati ai confini interni. La Francia da domenica introduce l'obbligo del test molecolare per i viaggiatori europei che entrano nel suo territorio, la Germania ha 50 mila decessi, Hong Kong valuta il primo lockdown dall'inizio dell'epidemia. Grazie per la visione! Grazie per la visione!